Fogli, allora iniziamo con la tragedia di Rigopiano, una notizia che ieri sera è rimbalzata sulle agenzie, pensate a 22 archiviazioni per la tragedia dell'hotel di Rigopiano, appunto dove morirono 29 persone. Secondo il GIP le risultanze investigative non permettono di sostenere l'accusa in giudizio. Alla fine la colpa sarà di chi stava in hotel, di chi lavorava a Rigopiano e chi c'è andato in vacanza. Il giudice ha colto la richiesta di archiviazione nei confronti dei funzionari della Regione e dei personaggi che ci hanno fatto credere che Stefano era vivo. Queste parole sono quelle usate da Alessio Feniello, papà di una delle vittime. Chiediamo subito un commento su questa archiviazione al nostro ospite Angelo Maria Perrino, direttore di Affariitaliani.it. Buongiorno Angelo. Buongiorno, buongiorno Roberto. Certo, che dire, io un po' me l'aspettavo perché quando ci sono queste indagini complesse che riguardano la burocrazia, il sistema delle regole, delle leggi che cambiano, si inserisce ovviamente la possibilità della via d'uscita e ahimè bisogna dire che la sentenza sconcerta e dispiace. Che messaggio passa Angelo? Passa il messaggio che in Italia non si è sicuri di nulla e ahimè arriva nel momento in cui da Genova alle autostrade che crollano la insicurezza dei cittadini cresce e da parte di chi dovrebbe assicurare la tranquillità non vengono risposte positive. È un'indagine che si è rivelata un buco nell'acqua. Ecco, alla fine poi non paga mai nessuno. Non vorremmo che fosse così, ma passa questo messaggio.